Ripete al quarto minuto di gioco, pallone dalla destra, testa di Savoldi. Rimpallo tra Perani e Tommasini, palla ancora a Savoldi che di sinistro fa partire un pallonetto che supera Albertosi in uscita. Al quattordicesimo, sempre del primo tempo, Savoldi colpisce un palo, però al ventiduesimo riesce ad offrire a Vieri la palla del 2-0. Al ventottesimo, traversone di Ghetti, testa di Fedele, 3-0 per il Bologna. Il Cagliari accorcia le distanze al trentotesimo con Riva, punizione di Gori, poi tutto di testa Riva, De Sì, Riva e palla in rete. Al ventitresimo della ripresa, quarta rete per il Bologna, lunghissimo traversone di Perani dalla destra, Savoldi controlla assai bene e batte ancora Albertosi. Ultima rete al quarantaquattresimo della ripresa, pallone da Bruniera a Amaraschi che batte a Dani, risultato finale 4-2 per il Bologna. Grazie. Grazie.